dammi copertura dai, mi muovo, mi muovo andiamo, andiamo mi serve un caricatore andiamo, andiamo, spingiamo, spingiamo spingi benvenuti ad un nuovo video dell'SMT Airsoft io sono M e quest'oggi ci troviamo ancora nel campo urbano e boschivo di Villa Anterio, provincia di Pavia la giocata si è svolta il 25 ottobre 2018 e consiste nel difendere un computer con informazioni importanti dall'attacco nemico la nostra difesa è posizionata nella zona urbana mentre la squadra di attacco parte dalla loro base situata nel bosco la replica che sto usando è una custom, in particolare il modello MK12 lunedì prossimo uscirà la recensione da fuori è rischioso passare da fuori perché c'è quello lì dietro la montagna c'è quello là e ci sono quelli da sinistra ce n'è un altro là sono arrivando tutti da qua vabbè teniamo la posizione sperando teniamo la posizione e eliminiamo la bandiera teniamo la posizione ok teniamo la posizione e eliminiamo sono qua ok teniamo la posizione e non li facciamo passare ok ok c'è l'occhio che ti tirano eh devo trovare un punto ah Miguel oh andiamo dove c'è il fortone lì all'ingresso dobbiamo uscire però da fuori sì ehi blu blu occhio eh attenzione non guardare quando ho non 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 ok tango down ricarico come qua occhio vai purtroppo i nemici sono riusciti a neutralizzare la difesa ovviamente riusciranno a prendere il computer e lo porteranno nel bosco che vedete là in fondo per trovare la chiave d'accesso e sbloccarlo una volta sbloccato dovranno sfiltrare con le informazioni in un'altra zona del bosco a questo punto una volta curati dal medico nella nostra base una parte della squadra decide di seguirli e cercare di bloccarli prima che riescano ad sfiltrare praticamente da squadra di difesa siamo diventati la squadra di attacco ovviamente ci hanno visti che li stiamo seguendo quindi inizialmente andiamo cauti per evitare stupide perdite in quanto questa è l'ultima vita disponibile della giocata in quanto questa è l'ultima vita Grazie a tutti. Chi è quello? Colpito. Andiamo, andiamo, andiamo. Phil, falli andare, dai. L'hai visto, Viper? Ricarico. Andate, andate ragazzi, andate, vi copriamo noi. Vai, scorbo, vai, scorbo, dai. Zerò, stai sulla destra e avanza un po'. Noi dobbiamo entrare lì dentro, ok? Fuoco di soppressione e io entro, ok? Ok. Dai, andiamo. Dai, spariamo, 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 dai. Spara, scorbo, sparbo, sparbo. Ok, occhio, occhio, che l'hai in fondo, scorbo. Ore 12. Dietro al bancale è quello in fondo, lo vedi? Dove sto sparando io? Sì, sì. È lì dietro, spara. Vai. Spara, spara e basso. Spara, 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 spara. Ok, ok, buono. Ok, buono, 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 buono. Ricarico. Ce n'è uno sull'albero. L'alberone è grosso sul fosso, a sinistra. Al di là della stradina, sulla sinistra nostra. Sono due. Due dietro all'albero? Due dietro, uno dietro all'albero e uno dietro al fosso. Oh, K. Hai capito qual è l'albero, Scarba? L'alberone è quello davanti a te. Ce n'è uno dentro al fosso e uno dietro all'albero. Esatto. Mi muovo, Scarba, stai in puntamento, stai in puntamento. Apri me. Stai qua, fermo, 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 fermo. L'albero grosso è questo. Ok. Di sotto ce ne sono due, da due a tre. Ok, buono. Ok, hai visto? Buono sinistra, in fondo. Hai visto, hai visto? Cambio. Ci sei? Sì. Ok. Mi muovo. Sì, lo so. Sto cosa che ha fatto gini, non mi è piaciuto. Ricarico. Sono in due. Fosso. In fondo. Sinistra. Un po' di apertura, no? Guarda a sinistra, sta scappando a sinistra, raga, ok? Raga, copriteci un po' perché qui ci fanno secchi. Ehi. Date un po' di fuoco, ehi, dai! Io andrei sul fosso. Stanno ripirando. Andiamo sul fosso. Qui Miguel, qui Miguel. Qui Miguel ti ricevo, dimmi tutto. sì sì si stanno staccando il prendiamo lì da dietro certo però dobbiamo controllare di là ok nuovo piano ragazzi voi intercettateli noi li prendiamo da dietro ricevuto o k k certo no lento siamo qua dentro ci ci teniamo coperti ci siamo che i caricatori m4 ok perché io sono finito o l'ultimo è gli ultimi 140 colpi poi basta sto facendo il giro da dietro so perché lì stiamo per schiacciare arrivo muoviamoci muoviamoci diamo spara 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 dammi copertura dai mi muovo mi muovo andiamo andiamo sulla destra mi serve un caricatore film vabbè continuate a sparare voi ok andiamo andiamo spingiamo spingiamo spingi spingi ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho buca com'è finita e poi adesso vediamo di invertirli così purtroppo non siamo riusciti ad intercettarli come avremmo voluto e solo un operatore della squadra avversaria rimasto in vita è riuscito a desfiltrare con le informazioni abbiamo perso peccato ci siamo comunque divertiti tanto ed è la cosa più importante vi ricordo ragazzi di condividere il video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdere nessun video seguitici anche su instagram taggateci sulle vostre foto sulle vostre storie fate un salto anche sul profilo del software pavia per questo video è tutto ci vediamo con la recensione del mk12 lunedì 6 aprile un saluto da m stay angry stay biru ciao 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 ciao